Hello there! Oggi continuiamo con il gameplay di The Sims, già vi avviso che presto arriverà lo speed build di questa spiaggia che ho, diciamo, un po' ristrutturato e ho creato questo molo, visto che mancava. Però oggi giochiamo, quindi riprendiamo con la nostra marea e volevo avvisarvi subito che purtroppo l'ultima volta, prima di partire per la Grecia, ho, per sbaglio, cioè, registrato un episodio ma non si è registrato. Quindi io ho giocato da sola per tipo un'ora e mezza e non ha registrato nulla il computer. Quindi vi spiego che cosa è successo. Ho creato due nuove unità familiari, vi faccio vedere prima questa che proprio non vi aspettavate perché non ne abbiamo mai parlato, però ho pensato fosse carino creare queste due gemelle. Questa è ispirata ad Ariel, la sirenetta, e infatti si chiama proprio Ariel ed è, diciamo, la gemella sirena buona. E poi ho creato lei che si chiama Ursula ed è la gemella sirena cattiva, quindi entrambe sono sirene, però una è buona e una è cattiva. Proprio lei ha dei tratti malvagi, quindi per così creare un po' nuove dinamiche ho creato loro due che abitano qui e tra l'altro appunto Marea le ha già incrociate per la città, per l'isola, quindi si sono già conosciute, però oltre che questo non è successo nient'altro con loro. Invece qui ho creato un'altra unità familiare composta da loro due, che sono due amici, coinquilini, che abitano insieme perché entrambi hanno dei lavori sull'isola. E come abbiamo detto, lui è Billy ed è il famoso bagnino che dovevamo creare da far conoscere a Marea. E quindi ho creato Billy Lifeguard, il cognome significa bagnino, ed è ispirato, non so se l'avete riconosciuto, spero di sì, è ispirato a Billy di Stranger Things. Comunque per farvi vedere brevemente i tratti, lui è un romantico seriale, è egocentrico, è attivo ed è figlio del mare, nel senso che gli piace molto il mare, visto che appunto è un bagnino. E questo appunto è il suo amico con cui vive, che è Lucas Ocean. E anche lui appunto è un altro ragazzo, quindi noi proveremo comunque a far incontrare, conoscere loro due, però nei commenti ovviamente dovete anche consigliarmi che altre dinamiche volete creare. In ogni caso, nella puntata che per sbaglio non ho registrato, Marea ha già conosciuto tutte e due, si sono solo presentati, non è successo nulla di che. Mi dispiace che appunto non abbiate potuto vedere il loro incontro, però la cosa bella è che almeno già lo conosciamo, ce l'abbiamo già tra i contatti degli amici, e quindi se creiamo delle feste o degli eventi, possiamo già invitarlo direttamente. Ed eccoci con la nostra Marea. Allora, dobbiamo capire un attimo che cosa sta succedendo. Allora, oggi è domenica e lei per il lavoro non aveva ancora finito, esplora la caverna, quindi dovremmo tornare alla caverna che lei aveva già esplorato, però questa è una nuova sfida, diciamo, che il lavoro le ha richiesto. E poi abbiamo anche il suo sogno da vita da spiaggia, che a cui manca guadagna l'oro a una festa della cava, ed era quello effettivamente che volevo organizzare. Ah, controlliamo la nostra ananas come va? Sembra crescere, però non possiamo fare nulla di che per ora. Ok, è una pianta da estate e primavera, quindi dovrebbe continuare a crescere. In ogni caso, appunto, io volevo assolutamente, qua togliamo questo, giorno delle nuove abilità, perché non possiamo fare, abbiamo già un sacco di cose da portare a termine. Io direi proprio di organizzare una festa della cava sulla spiaggia che ho appena creato e presto uscirà, appunto, lo speed build come prossimo video. Così, portandola a termine, avremo delle nuove sfide. Quindi controlliamo se i suoi bisogni sono a posto, devo dire di sì, magari per precauzione la facciamo andare in bagno. Poi, in tanti, mi avete detto di modificare un po' la sua casa e di farla più grande. So che a tante di voi piace, intanto preparo la cava. Che è questa bevanda dell'isola. E comunque so che a tante di voi piacciono le case grandi. A me, invece, piacciono molto le casettine e riuscire a farci stare tutto in modo realistico nelle varie stanze. Però sicuramente potremmo pensare di modificare un po'. Per esempio, in tantissime, mi avete detto di chiudere la stanza e di non lasciarla aperta. Quindi potremmo, per esempio, fare questo. Allora, lì lei non riesce a fare la cava, quindi spostiamola qui. E diciamole di farla di nuovo. Vediamo se ora riesce. Con il nuovo fantastico bancone. Ok. Io adoro queste ciabattine, comunque. Così, volevo dirlo. Facciamogliela preparare. Oh, perfetto. Vediamo. Ok, sarà avariata tra nove ore. Mettiamola. Cosa abbiamo qui nel nostro inventario? Dati scientifici. Vedi, vendi o invia al centro di ricerca? Inviamolo. Ah, ci hanno anche dato 42 simoleon o simoleon, non mi ricordo mai. Comunque, prendiamo la cava e mettiamocela nell'inventario. Nove ore dovrebbero, dovrebbero esistere. E come vedete qui negli amici, appunto, vi faccio vedere che ora dovrebbero essere... Eccoli qua, sì. Abbiamo Billy. Perché con questo... Ah, questo è il vampiro, vabbè. Poi ci sono anche Ursula e Ariel. E c'è anche Lucas. Però come vedete è abbastanza soft come conoscenza amicizia. Visto che ora è ancora ora di pranzo, potremmo nuotare qui e chiamare il nostro delfino Juno. Visto che ormai è tipo una tradizione il fatto di chiamare Juno, diciamo, all'inizio della puntata. Chiama da te Juno, ecco. Eccola! Io non so mai cosa dare della femmina o del maschio. Accarezza. Spruzza. E poi vorrei anche... Vediamo. Nutriamola, così è felice. E poi volevo farla andare a prendere qualcosa. Sapete che l'abbiamo mandata a prenderci... Ah, riporta, ecco. A prendere dei tesori del mare. Vediamo che cosa ci porta. Ok, è andata. Vediamo. Una conchiglia. Uh, bella. Non comune, però non è rara. Però è stata brava lo stesso. Quindi grazie mille. Accarezziamola. E congediamola. Ora, tra l'altro, possiamo anche tornare qui a casa. E vediamo se riusciamo a metterla. Va bene, dai. Per ora lasciamola lì sotto e poi la sistemerò un'altra volta. Se no, ogni volta devo andare nella modalità costruisci solo per posizionare le cose sulla mensola. Ora, proviamo a cambiarci sperando che rimanga così. E che non si cambi come sempre. Ok. E direi di provare ad organizzare la festa della cava. Allora... No, forse è qua. Pianifica un evento sociale. Vediamo se ci ho azzeccato. Eccola qua. Eccola qua. Festa della cava. Padrone di casa. Ovviamente Marea. Ospiti. Invitiamo sicuramente i nostri vicini di casa e anche le due gemelle. Loro sono gli altri due vicini. E poi invitiamo anche Billy e Lucas. Perché no? In realtà potremmo invitare anche Mele, visto che comunque siamo abbastanza amiche. Sì, dai. Direi così. Ah, addirittura nove amici abbiamo. Ed ora dobbiamo scegliere il luogo. Sperando che mi faccia selezionare la spiaggia. Sì, che bello. Me la fa selezionare. Perché a volte The Sims non mette tutti i luoghi esistenti nei vari scenari. E speriamo anche che venga Billy e che non abbia da fare. Eccoci qua. Oh, mi sembra che siano arrivati tutti. Oddio, manca proprio Billy, ragazzi. Vediamo cosa c'era scritto qui come messaggio. Alcuni consigli per un evento di successo. Chi ospita ha bisogno di un frigorifero, un bancone e un forno. Io non ho un forno perché siamo su un molo. Comunque, purtroppo Billy non è arrivato. Io proverei a chiamarlo e invitarlo nell'otto attuale. Invita nell'otto attuale. E vediamo cosa ci risponde. Forse sta arrivando. Oh, perfetto, non l'avevo visto. Dove si trova Billy? Vabbè, prima o poi arriverà. Comunque le persone stanno già iniziando a fare come se fossero a casa loro. Perché lei sta facendo... Anzi, un sacco stanno facendo una costruzione di sabbia. Loro sono sull'altalena. Non vi farò vedere il tour della spiaggia perché tanto esce lo speed build ma tanto ci stiamo giocando. Quindi mi sembra abbastanza facile da capire com'è strutturata. In ogni caso, la cosa importante per noi, oltre che conoscere meglio Billy, è finire queste sfide all'interno dell'evento perché dobbiamo prendere la medaglia d'oro. Quindi dobbiamo socializzare con gli ospiti e invitare gli ospiti a bere la cava, che per fortuna abbiamo qua. Quindi io direi di iniziare con questo. Vediamo un po' se riesco, ok, a posizionarla. Quindi ci clicco sopra e chiamo per una bevanda. Semplice. Ok, siamo già riusciti a fare il primo... Ah, perfetto, perché è bastato quello. Ora dobbiamo bere per tre volte. Spero che la cava non abbia effetti strani su di me. Ok, ho bevuto, perfetto. E ora devo fare un brindisi. Oddio, wait. Dove lo faccio il brindisi? Oh mio Dio, forse lo devo fare con qualcuno. Vediamo. No ragazzi, se non lo troviamo è un casino. Adesso magari voi lo vedrete e io no. Però non lo trovo. Non so come fare il brindisi, cavolo. Ah, ma perché ho già finito d'avere. Allora prendo di nuovo la bevanda. Così ora forse lo posso fare. Prendila però, ti prego. Ok. E prima che la finisca, facciamo il brindisi. Brindisi con la cava. Perfetto, ce la possiamo fare. È arrivato anche Billy, ragazzi. Eccolo qua. Non perdiamolo di vista. Anzi, dopo il brindisi, che stiamo per fare. Ok. Stiamo per fare il brindisi. Poi dobbiamo... Ah, ragazzi, ma siamo riusciti anche a socializzare con gli ospiti. Perché comunque abbiamo chiacchierato con loro. Ora... No ragazzi, dobbiamo preparare... Dobbiamo cucinare. Oh no. Devo capire come fare. Intanto raccontiamo una barzelletta e ringraziamo per la presenza. Devo per forza aggiungere un bancone. È una cosa super irrealistica, però lo devo fare per forza. Fa troppo ridere questa cosa, ragazzi. Lo so. Lo so. Tra l'altro andrò anche a rovinare la mia opera d'arte, cioè questo molo. Però lo devo fare per forza per portare a termine la sfida. Quindi metterò questo e anche un forno. Mi fa troppo ridere questa cosa. Ah, è già che ci siamo. Spostiamo anche la cava qui. Ok. Così che possiamo rifornirla e chiamare di nuovo gli ospiti a berla. Comunque intanto stiamo anche socializzando con Billy, mi raccomando, eh. Adesso andiamo a rifornirla. Ok, speriamo di non metterci troppo. E fare una porzione multipla. Che caso il frigorifero... Dobbiamo avere anche un frigorifero. Perfetto, direi. E mettiamo anche questo frigorifero. Mi ucciderete? Per come sto barando alla cosa. Mettiamolo di qua. Riprendi la cava e poi facciamo... Ah no, dobbiamo anche invitarli a prenderla. Quindi facciamogliela finire. Sperando di avere tempo. Ok, ce l'abbiamo fatta. E quindi chiamo a prendere la bevanda. E poi facciamo cucina. E io direi di fare la cosa più semplice possibile. Panda è muerto. Formato festa. Sperando di non combinare casini. Tu non bere, chi se ne frega. Spostatevi ragazzi. Ah, mentre cuciniamo però possiamo raccontare una barzelletta. Buffo racconta una storia buffa. Mi sa che ho sbagliato. Ah, stavo parlando anche con lei. Forse devo proprio fare racconta una barzelletta. Sì. Però intanto tu devi cucinare ragazza. Se no qui non abbiamo più tempo. Cucina, devi cucinare. Muoviti. E perché lei ha disagio? Ok, basta non parlare più. Che ti distraie, basta. Cucina. Fai un brindisi di nuovo? No vabbè. Racconta delle storie intanto. Racconta una storia. Dobbiamo rifornire di nuovo la cava. Non ce la faccio più. Invita a tavola. Chiama a tavola. Chiama a tavola perché dobbiamo farli mangiare tutti nello stesso momento. Forza. Non abbiamo più tempo ragazzi. Non ce la faremo mai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok. Riprendi la cava. Ragazzi questa cosa è difficilissima. Di solito non sono così difficili queste sfide. Ah, ma ragazzi sto continuando ad andare avanti ma in realtà abbiamo già preso la medaglia d'oro. No vabbè. E io che stavo continuando. Che ridere. Vabbè, allora intanto possiamo parlare con lui. L'abbiamo già ringraziato per la presenza. Cosa gli possiamo dire? Discuti gli interessi, dai. La cosa più semplice. Possiamo creare con lui un gruppo. Così possiamo sederci insieme qua. Siediti insieme. Ah, tra l'altro lei sta anche male. Per non rovinare il momento utilizzerò questo trucco che è di The Sims che mi permette di renderla felice. Così risolvo la cosa dell'andare in bagno. Ora che siamo seduti qua in modo molto awkward, chiediamo del cibo, visto che l'abbiamo fatto noi. E impariamolo a conoscere. Comunque nella conversazione si è anche intromesso lui. Eccolo, è arrivato il terzo incomodo. Ops. Chiedi del cibo di nuovo, ma non ci ha detto niente del cibo. Sì, abbiamo concluso la missione. Abbiamo preso la medaglia d'oro. Talmente riuscita che lo diciamo due volte. Dai uno sguardo al tuo nuovo tesoro nell'inventario. Perché ha scritto due volte? Vabbè. Dell'unità familiare. Non abbiamo niente. Oh no, non ci hanno dato nulla. So sad. No, non ci hanno dato nulla. Bene. Tutto questo per niente. No, non è vero. Comunque abbiamo superato e quindi adesso abbiamo delle nuove sfide. Quindi possiamo continuare la nostra conversazione senza di lui. A cui possiamo dire ciao. Arrivederci. Così parliamo solo con lui. Chiedi di ammirare le stelle? No, è troppo presto. Cosa dite? Possiamo entusiasmarci per la tutela dell'ambiente. Oddio, puzzava anche questo. Oddio, ne arriva un altro. Chi cavolo sei tu? No, thanks. Ma le persone non capiscono quando sono di troppo. Impara a conoscere. E diciamo a rivederci anche lui a questo punto. Non si può. Bene. Ah, potremmo chiedere di dondolare sull'altalena. Ti prego, sì. Andiamo là. Secondo me è una cosa molto carina e non è come guardare le stelle. Vai qui insieme. Chiedi di farti spiegare. No, dai, di dondolare insieme. E facciamolo con Billy. Sì. Oh, che cosa carina. Intanto ci possiamo parlare. Racconta una storia buffa. Sì, credo che possano parlare mentre sono sull'altalena. No, oppure forse no. Che ridere. Semplicemente si stanno divertendo. Ok. Complimenti per l'abito. Scatta una foto insieme come ricordo. Questo mi piace un sacco. Foto scattata. Ma ce l'abbiamo nell'inventario? No, non ce l'abbiamo. Oddio, si sta arrabbiando con noi? No, fatti esaltare. Ok. Per esempio potremmo chiedergli... Ma questo è arrivato pure qua? No, vabbè. Cioè, adoro. Lui si è messo a fare le flessioni e lei è seduta qua. Vabbè. Oh no, se n'è andato. Vabbè, torniamo a casa che effettivamente è anche tardi. Bene. Dopo questa giornata molto produttiva direi che possiamo tranquillamente andare a dormire molto felici. Vediamo i suoi livelli. No, dovrebbe essersi tutto a posto perché ho usato il trucco. Ok, abbiamo fame quindi mangiamo. E poi dovremmo portare a termine questa cosa del lavoro di cui non ho per niente voglia. Perché dobbiamo tornare alla tomba. Cioè, non alla tomba, scusatemi. Alla caverna. Sapete che possiamo fare? Possiamo ristrutturare adesso la casa. Sono molto in vena di speed build oggi. Infatti volevo farne un altro, però poi mi sono detta no. Ne hanno avuti fin troppi. Quindi dovevo per forza prima giocare un attimo. Potremmo togliere questo, che è molto bello. Però, come avete detto voi, effettivamente servono delle mura. Attiviamo l'altro trucco, che è quello per permettere agli oggetti di essere messi ovunque io voglia. Anche di intersecarli. In tanti mi avete anche detto che vorreste il bagno attaccato al resto della casa. Anche se a me sembrava una cosa così carina, il fatto che fosse staccato. Allunghiamo il tetto. Facciamo la parete uguale. E poi dobbiamo aggiungere delle finestre, direi. E potremmo mettere queste, così comunque abbiamo la vista sul mare. Mmm, mi piace. Dobbiamo mettere sicuramente una luce o due, direi due. Invece i muri, non so se farli uguale al salotto, anche se sarebbe un po' una ripetizione. Oppure, mmm, anche così mi piace. Carino. O anche rosa, però non so se c'è una cosa simile rosa. Oh, sì c'è. Mmm, un po' troppo forse. Questo mi piace. Peccato che non possiate dirmi live quello che pensate di quello che sto facendo. Spero che vi piaccia come idea. Questa pianta è molto bella, però è un po' impossibile da posizionare perché le foglie sparano in fuori troppo. Mettiamo dei nuovi comodini. Mi piacciono un sacco queste. Veramente un sacco. Vediamo che colori ci sono. Mmm, belle, queste mi piacciono. Questo sarebbe un portalibri, che però forse qui non ci sta molto. E non saprei dove metterlo, effettivamente. Iniziamo a venderlo, poi capiremo. Visto che per ora siamo sole, possiamo anche utilizzare solo un comodino. E metterci sopra una lampada, una bajur. O delle candele. Bello. Adoro. Qualcosa sul muro, però qualcosa di carino. Tipo di marino. No, queste sono cose troppo da città. Vediamo se c'è effettivamente qualcosa di questo pack. O addirittura quello dei cani e gatti. Perché nei cani e gatti ci sono molte cose di mare, visto che la città è sul porto. Mmm, no, in realtà ci sono solo questi cani. Oppure questo. Vediamo se c'è qualcosa di marino. Questo. Un po' triste. O questo. Questo mi piace perché si abbina anche a questi colori. Su queste pareti invece ci sarebbe un bello specchio. Così. E magari questa decorazione. Non so, non chiedetemi perché, ma forse ce l'abbiamo già in cucina. No, in cucina alla fine non l'avevo messa. No, allora mi piace. Non so, mi sembra carino. E direi... Ah sì, questa decorazione mi piace tantissimo. Uh, è rimasta una lampadina, una luce. Mi piace tantissimo questo che sembrano tipo delle tavole da surf. Mmm, che belle queste. E magari per terra una pianta. Forse questa. Vediamo che colori ci sono del vaso. Bella, mi piace. Che ne dite? Qui addirittura potremmo mettere questa. No, non è vero perché è di ingombro nel passaggio. Mettiamo le tende che comunque essendo la camera da letto serve un po' di privacy. Sì, mi piacciono tantissimo queste. Ok. E qui rimane questo spazio dove non so che cosa mettere. Non mi viene in mente nulla. Magari possiamo mettere, ora mi viene in mente una cassettiera carina, piccolina. Questa qui. Questa mi piace un sacco. Che colore possiamo farla? Ora facciamo azzurra di nuovo. Oppure gialla, però c'è anche il vaso che è giallo. Se ci fosse stata lilla sarebbe stato perfetto. Facciamola così. Però sopra ci mettiamo una decorazione colorata. Potremmo metterci dei trucchi. Sì, e magari dei fazzoletti. Ora li sistemo e cambio anche il colore. Ok. Così mi piace. Già che ci sono sposto anche la conchiglia. Metto di fianco anche la statua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vediamo se funziona. Tipo sediamoci, vediamo. Bene. Funziona anche tutto. Oddio, il capo di Maria è rimasto soddisfatto. Ah no! Pensavo insoddisfatto, visto che non abbiamo fatto una cosa. Soddisfatto del lavoro. E ha guadagnato 72 simoleon. Bene. E abbiamo due nuove missioni. Comunque io lascerei queste missioni e la decisione su cosa fare con Billy per il prossimo episodio. Vi ricordo che il prossimo video sarà un altro speed build e poi continueremo con il gameplay. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, è l'ultima decisione finale, se Billy è una buona scelta come possibile fidanzato. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo prestissimo con un altro episodio. Ciao! Ciao! Ciao!